L'idea di ambientare il Boccanegra in una specie di matatoio, macello, viene da una parte dal fatto dell'ispirazione di un tipo di attività che spesso si fa vicino ai porti, del fatto che evidentemente Genova, essendo un porto, evoca tutto l'ambiente portuale, diciamo. E pensando a queste cose ho cominciato a pensare che è un ambito molto duro, l'ambito di un porto, dove ci sono distacchi sociali importanti, che poi nel caso di Simone Boccanegra sono importanti perché c'è veramente una rivaltà tra il Popolani e il Patrizzi, che è molto importante alla trama. E dunque dava un contesto, diciamo, sociale di due fasce della società che sono in conflitto. Questo era da una parte. Dall'altra parte, dunque, facendo un po' di ricerca intorno ai porti, mi è apparsa questa cosa del macello, perché spesso i macelli si trovavano, oggi è industrializzata in un'altra maniera, l'attività, dunque è diverso, però spesso si trovavano vicino alle vie fluviali o marittime perché erano di facile trasporto dopo sia il vestiame vivo che la carne già macellata. E ho pensato che questo era un ambito in cui la durezza della vita era ancora più forte, diciamo. E poi mi è apparsa l'idea della metafora di questa cosa, del macello, come una metafora della crudeltà. Perché un uomo politico, anche quelli più, diciamo, benintenzionati, devono avere un distacco, diciamo, per dirlo sentimentale, che conceda, che dia passo alla crudeltà quando ci vuole. Per dire, se a un certo punto si deve andare in una guerra, immagino che un uomo politico deve decidere, ok, quanti vittime ci saranno, quanti morti ci possiamo permettere, se mandiamo 300.000 uomini a lottare, qual è il calcolo dei morti che avremo, un 15%, un 20%. Questa persona pensa in termini di numeri, in termini di quantità, di cosa si può giocare o no in una guerra, che cosa si può rischiare o no in una guerra. non si mette a pensare che quel signore, il figlio o il marito di una persona, quel momento lì non esiste. Dunque la politica, anche nei suoi, diciamo, rappresentanti, anche quelli meno, diciamo, più, diciamo, indulgenti, ha comunque un grado di qualità, perché quando uno prende decisioni per gli altri, in qualche maniera si arroga un diritto, che può essere anche legittimo, perché è dato da un voto o quello che sia, di decidere sulla vita delle persone. E questo è un po' decidere a volte sulla vita e sulla morte, decidere su una politica di salute, per esempio. Se io decido che non posso spendere, diciamo, in una terapia, per una malattia rara, 50.000 euro a persone, vuol dire che quelle persone moriranno. È vero che vuol dire che con quei soldi forse salvo molte altre persone, però questo tipo di decisione implica una certa crudeltà. Nel caso del Bocca Negra è ancora, diciamo, più accentuato questo fatto, del fatto che si tratta di una grande rivaltà tra leaderi politici e di persecuzioni vere, diciamo, in cui già non stiamo parlando neanche dei politici, diciamo, bienpensanti. Stiamo parlando di persone che hanno nemici che perseguitano e che li baniscono, che sono in esilio, che sono forse anche condannati a morti, che si minacciano di morti uno all'altro, costantemente. Dunque stiamo parlando di un contesto dove la crudeltà si mette in opera, diciamo, abbastanza palesemente nel libretto. A me interessava anche fare questa metafora, particolarmente facendo questa versione, perché questa versione, che, diciamo, è diversa, è forse più agile della seconda, perché è un po' più corta, ma diciamo che ha un carattere un po' meno politico della seconda. La seconda c'è una grande scena politica, la scena del consiglio, della fine del primo atto, che qua non c'è, ma c'è una grande celebrazione. Dunque questo un po' li toglie il personaggio di Bocca Negra, quella temperanza che le dà questa grande scena in cui lui si esercita come uomo politico e cerca un po' di pacificare le cose. Questa cosa qua, in questa versione, non c'è. Dunque questo fatto che lui, diciamo, è comunque un personaggio che era prima, che reagisce quasi per vendetta, in certe maniere, perché banisce i patrizi, no? Come gli adorni, anche se dopo li perdona. ma comunque sono baniti. E il fatto che con Fiesco ci sarà sempre questa rivalità che lui crede è morto, però che se non Fiesco rischierebbe la sua vita. Vuol dire che lui ha una vendetta dietro, dunque di essere una vittima della persecuzione, o una vittima della differenza di classe, che si può dire tra patrizi e popolani, diventa un vittimario. Dunque è lui a perseguitare. Dunque vuol dire che il fatto di trovarsi in quel posto lì della decisionale lo trasforma in carnefice, diciamo. È un po' il meganismo che succede all'uomo politico e soprattutto in certi contesti della politica, ovviamente, no? Per quello mi interessava la metafora, perché non c'ha, diciamo, questa versione, se si vuole, un pochettino più cruda che la seconda, dunque, meno politica, meno, tra virgolette, potremmo dire diplomatica, non so come specificarlo, però gli manca questa cosa che la rende più cruda, meno, diciamo, il Bocca Negra è più duro, trovo, in questa versione, che lo è nella seconda versione, che è quella più conosciuta, evidentemente. Il Simone Bocca Negra è un uomo in grado di perdonare, però questo perdono gli viene, sì, sempre, diciamo, indicato dal suo amore, da un sentimento amoroso sia per la sua amante morta come per la sua figlia. Diciamo che nel caso di Verdi molto spesso troviamo questa situazione dell'individuo che si deve, da una parte, adattare il suo contesto sociale, politico, diciamo, è il conflitto con i suoi sentimenti personali, no? Qua, più che un conflitto, in realtà, il sentimento personale è quello che guida il perdono, perché in realtà, lui, per esempio, il primo perdono che concede, in questa versione, è ai fratelli Adorno, che sono nell'esilio, quando li troviamo dopo 25 anni che lui esercita il potere, i fratelli, i sopposti fratelli di Amelia, sono in esilio, e lui gli concede il perdono e lei lo concede, dice lui, grazie ad Amelia, è a lei che devono questo perdono. Lui in quel momento non sa ancora che Amelia è infatti sua figlia, però evidentemente si può pensare che lui lì qualcosa già sente per questa donna che non sa esattamente chi sia. Quello può essere, diciamo, una delle guide, degli impulsi che lo portano a perdonare. C'è anche il calcolo politico, un suo, diciamo, grande sostenitore, che Paolo è innamorato di lei, vuole la sua mano, dunque, forse anche lì, c'è un gioco un po' politico, però comunque, si può dire che, secondo me, io penso un po' che lui presenta in questa giovane donna qualcosa che non sa spiegare ancora, che lo porta a perdonare i suoi fratelli, quelli che credono, crede essere i suoi fratelli. Dopodiché, in realtà, non è che così, diciamo, comunque rimane un uomo difficile, un uomo, quando Amelia gli confessa il suo amore per il suo grande nemico, in realtà lui non l'accetta, questa situazione, solo l'accetta se lui si pentisse, diciamo, se non sarebbe impossibile, dunque, diciamo, che lì ancora si svela che questa crudeltà si mantiene, no? Che in questo caso, sarebbe, diciamo, significherebbe, quasi, non uccidere la figlia, però la figlia dice, se muore lui, muoio anch'io, no? Diciamo, dunque, non è che così misericordioso come nell'altra versione, veramente, è più crudele qua, in bocca negra. Evidentemente, è al contrario, è Adorno, che capendo che lui è il padre della sua amata, amata, decide di cambiare, no? Cambiare posizione e giustamente allinearsi con bocca negra, no? In realtà, in questa versione, bocca negra non perdona nessuno, diciamo, no? Per dirlo chiaramente, è solo che Gabriele Adorno che cambia, no? Si schiera a favore del suo. E, diciamo, in certa maniera, sì, perdona, Fiesco, quello sì, c'è questo mutuo riconciliazione, quella sì, quella scena, sì, si mantiene praticamente come nella seconda versione, del fatto che ha trovato, per il fatto che ha trovato esattamente questa figlia persa, che è anche comunque nipote di Fiesco, in questo si uniscono nell'amore per questa giovane donna. Però diciamo che questa grande misericordia, in realtà, viene più simbolizzata per me, non da bocca negra, ma di Amelia, o Maria, come vogliamo chiamarla, perché lei, che in realtà fa, diciamo, sapendosi, diciamo, figlia di bocca negra, prima non lo sa, però dopo sì, diciamo, è il suo amore che consente questa cosa. Il vero principio, per me, pacificatore, in questa versione, non è bocca negra, è Amelia. E per quello, noi la simbolizziamo in un altro universo molto diverso, un universo dove non si uccide, ma si dà vita, diciamo, lei vive in un giardino, vive in un orto, dove lei coltiva cose che crescono, che nascono, invece di morire, dunque un principio di vita invece di un principio di morte. E per quello, lei, che è un po' isolata da questo mondo così crudele, così freddo, così crudo, ed è bella anche per quello, non è bella perché è una bella donna fisicamente, è bella perché c'è questo principio, questo giardino interiore, che anche lei coltiva, che è interiore, ma anche lo esternalizza, lo fa vero, e cresce dei fiori, fa crescere delle piante. E per me questo è il vero contrapunto, diciamo, lì si svolge il suo amore con Gabriele, in quell'universo protetto, quell'universo luminoso, creatore, generatore di vita, e si svolge il suo personaggio. E allora la pacificazione viene un po' attraverso questa situazione che lei fa di amalgama, fa di unione tra il suo padre e il suo amante, no? E dunque questo riunisce finalmente le due fazioni e pacifica, no? E crea un albore di una possibile nuova era, no? che poi lì c'è sempre un dubbio, no? Perché il finale del Bocca Negra per me è un finale un po' ambiguo, un finale un po' c'è la tristezza della morte di questo uomo che è comunque un grande uomo, diciamo, si capisce che è un uomo di un grande carattere, di una grande personalità e che ha gestito comunque Genova per 25 anni più o meno, se no si fa il calcolo nell'opera. e dunque c'è la tristezza per la morte di questo grande doge l'arrivo di un nuovo diciamo governante, di un nuovo politico che sarebbe Gabriele Adorno, però diciamo se uno ascolta un po' la musica c'è degli accordi finali che sono un po' che vanno del minore al maggiore che fanno una modulazione un po' strana molto misteriosi non è un finale diciamo né tragico né drammatico veramente come può essere che si vuole fare il finale di un ballo in maschera né un finale luminoso né un finale che potrebbe anche essere come quello dell'Aida che anche se i personaggi muoiono è una morte che si schiude il cielo si apre vogliamo andiamo al paradiso anche se muoiono è un finale di qualche maniera luminoso perché si vede si sente dire ma anche se si sente nella musica che c'è la pace per loro che vadano è un finale ambivo non c'è né una cosa né l'altra ci sono questi accordi alla fine come si suggerissero che forse ci ritroviamo non una pacificazione sino un ritorno di un nuovo ciclo di potere forse con un altro aspetto che siamo diventati di una cosa o un'altra però che il principio del leader si mantiene di questa cosa che saremo comunque trascinati da nuovo da questo potere e lui come figura politica ma anche il popolo perché alla fine quello che consente che l'uomo politico sia come è è anche la contrapartita cioè il popolo che glielo consente diciamo evidentemente in un contesto diciamo democratico il popolo consente o non consente ogni due o tre anni può anche non consentire e quello è il vantaggio del sistema democratico che abbiamo un po' nelle nostre mani un utile per farci ascoltare nel caso del Boccanegra è diverso un altro tipo di discorso però comunque che il posto può sempre diciamo farci diventare quello che non eravamo è sempre una minaccia secondo me alla fine del Boccanegra Verdi che forse era un po' anche all'epoca dell'uso dell'avventura Cabourde tutta l'avventura della grande Italia incominciava forse la sua grande delusione non è chiaro diciamo però lui chiaramente le cose non erano successe come forse se le aspettava lui dunque lì forse si sente un po' in questi accordi questo avvenire che non è molto un po' incerto diciamo no? grazie